Che stai facendo? Mi preparo. Sarà una catastrofe. Io non voglio perdermi lo spettacolo. Vorrei ordinare una confezione dei tuoi Dino Nuggets, per cortesia. Troppo vecchio per ordinare il menù bambini. Troppo vecchio. Bevo il succo dai pacchetti che si schiacciano. È chiarissimo qual è il tuo problema. Hai una crisi di mezza infanzia. Perché dobbiamo sopportare i tostafane? Saltare la coda è un crimine contro la società. Viviamo in un mondo in cui i trofei sono completamente senza valore. James, sei veramente tu? Che cosa vedi qui? Non lo so, è un elefante? Ci vedi un elefante? Significa molto stress. Oppure mani omicidi. Quindi tu arrivi dal futuro. Dimmi di più. Vuoi rendere onore alla mia coppa o aspetti di essere l'ombra di te stesso? Avremo la città in fiamme in un altro episodio. Non esiste ripetere. Insieme cambieremo il mondo. Farà la nostra missione. Oh, è bellissimo. Io premio James con il trofeo alla persona più gentile. Significa molto per me. Mi sembrava che avessi detto che... Dimentica quello che ho detto, Max. I trofei sono belli. Ah, non mi era mai venuto in mente. Ormai questa è la TV. Oh! Oh!